E' un giorno importante quindi per la comunità di Pietranico, per la chiesa di Santa Maria della Croce, non solo per il comune di Pietranico, questa è una chiesa che era già stata lesionata dal primo terremoto, poi dal secondo e che è inagibile dal 2009 e oggi Francesco Del Biondo, il sindaco di Pietranico che tanto ha spinto per questo finanziamento potrà contare su 125 mila euro che serviranno per innanzitutto per non far cadere questa chiesa e poi per riaprirla parzialmente al culto. E' una cosa che la stragrande maggioranza del consiglio regionale ha provato, è un fatto importante sicuramente per Pietranico. Però nello stesso tempo stiamo lavorando perché ci sono tanti altri comuni che si trovano in questa situazione, spesso sono piccoli comuni come per esempio il comune di Nocciano che non ha attualmente una chiesa perché tutte e due le chiese sono entrambe inagibili. Stiamo pensando una proposta di legge con l'istituzione di un fondo rotativo, cioè laddove i comuni hanno dei finanziamenti certi come per esempio da parte del segretariato o del Cipe, la possibilità di avere un'anticipazione da parte della regione Abruzzo salvo a restituirlo nei due anni successivi in modo da velocizzare questi lavori. E' una proposta di legge che andrà sicuramente in consiglio dopo il bilancio. Oggi siamo contenti naturalmente per il comune di Pietranico ma speriamo di fare bene per tanti altri comuni che si trovano nella stessa situazione.